Allora dicevo questa squadra non so dove dove mi ero fermato mister a posto consapevolezza dei suoi mezzi e questo è un dato di fatto in ottica Monza dato che molto spesso purtroppo poi c'è da fare la conta dei superstiti vedi Gijek attualmente dato che mercoledì guardiamo anche avanti si gioca come stanno i protagonisti del penso e se c'è la possibilità di recuperare Gijek Mi fai una domanda alla quale adesso è difficile rispondere perché è appena finita la partita io appena mi sono fatto la dolce sono venuto qui da voi non ho ancora valutato né col dottore non ci sono infortuni e questo è già molto però sulla fatica te lo potrei dire domani anzi dopo domani è il giorno più attentivo il giorno dopo tutti stanchi morti Lo dico fino adesso è inutile di chiedere come stanno giocatori fino ai partiti o il giorno dopo fra due giorni si può cominciare a misurare la capacità che hanno avuto di recuperare però anche qui qualcuno diciamo fresco lo possiamo recuperare oggi ho tenuto fuori Cupiz c'è Schiavone insomma ci sono dei giocatori che possono dare una mano no cambiare qualcosa quei tre o quattro massimo di più non si può fare perché poi dopo si va un po' in si creano adesso però sto parlando in una maniera un po' non non precisa ok non te lo so dire chiedevo ti chiedevo Gijek invece Gijek dovrebbe recuperare non è nulla di grave però presso una gran botta presso una trambata ha ricominciato a correre e speriamo ecco oggi si dovrebbe essere allenato anche lui lo valuteremo giorno per giorno vediamo come sta avevano una ferita che gli procurava dolore è quello il problema perché poi è vero che si è affermato non si è allenato e anche quello conta perché per me un giocatore si è allenare se non si allena faccio fatica a poterlo schierare ho questo concetto che per me è un dogma è un karma mister a proposito invece di eh visto che insomma scaramanzie eh ce le dobbiamo portare dietro no? Il regalo sotto l'albero è il primo botto a alpenzo eh di Venezia faccio seguito a quello che diceva il collega esposito non solo ventitré anni fa ma diciassette anni fa l'ultima vittoria della salernitana eh qui a Venezia eh e l'ultimo gol addirittura oggi ne abbiamo fatti due anzi se mi permette addirittura tre nel senso esatto sbagliata ce lo siamo fatti noi torno al discorso della consapevolezza dei suoi mezzi mi è rimasta impressa una tua frase di oggi proprio quando hai detto eh ci sono squadre che dicono che sono più forti noi intanto i punti li stiamo continuando a fare beh dopo quindici partite eh con la squadra che ci leggono la targa per usare una tua affermazione eh sempre tanta roba e ti acquisisce ulteriore consapevolezza dei propri mezzi no? assolutamente sì e oggi abbiamo fatto una bella partita eh la squadra ha giocato bene a livello tattico a livello di mentalità ha interpretato bene la gara ha fatto bene la fase non possesso ha fatto bene le ripartenze ha giocato di equilibrio eh sul 2 a 0 è andata non si è mai non ha mai non ha concesso nulla l'avversario ha creato tre palle e gol in contropiede quindi ha fatto una partita oserei dire quasi perfetta o perlomeno ottima poi ecco l'ultimo minuti ci sono degli episodi che sfuggono a dei controlli perché gli vengono tutti dentro butta una palla dentro la carambola che ti scappa è un episodio che è un episodio che esula da una valutazione secondo me perché ci sta anche questo nel calcio però ecco conta che la prestazione è stata eccellente ha giocato ha giocato ha fatto una partita la grande squadra oggi la squadra è un episodio che 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 è